La 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 Le quattro persone che sono uscite Dovranno cimentarsi in un'adorazione di questi dei Faranno una serie di passi per adorare questi dei Arriteranno qui davanti e dovranno adorare in questa maniera L'ultimo oggetto importante è A Il momento in cui uno delle quattro persone che è uscita Farà A L'alberto Darà una sonora Ceffonata Posso andare al ceffone? Al primo Al primo Poi Però se continuiamo così Non si può andare avanti Allora arrivato qua Farà A L'alberto vi darà Allora se Così andiamo in camera C'è Graubio che è un quarto d'ora che ne ha spiegato la cosa Non riesce Maleducare Primo sarà presente Tommaso L'alberto vi darà la sberra A sua dignità centrale E darà la sberra al seguente Così A tutto fino alla fine Ok? Però noi dobbiamo farci capire Dobbiamo far credere che sia una cosa seria Ok? Alla fine uno verrà valutato A seconda dell'abilità Con la quale ha eseguito questa adorazione delle tre divinità Va bene Noi in silenzio I detti devono stare molto seri Uno E poi l'altro E poi rimaniamo Ok? Se abbiamo il primo A seconda davanti a te Tre divinità Vedi la divinità centrale Più alta Nella di destra Quella di destra La divinità minore E altra divinità minorisima Miniorisima Che cosa dovrei fare? Dovrei fare una donazione E i passi sono questi Quindi Verrai valutato Da un'apposita giuria Centa tra il pubblico Grado di abilità Da 1 al 10 Ok? L'uterno non esiste Vedi l'idea Sono solo seri Primo pezzo Fino ad entrare nel tempo in cizio Mani giunte Piedi uniti Dovrei fare così Ssss Pio 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 p Uuuuuh! e li chiedi in centro facciamo una prova questa fai vedere bene l'intiro uno via io vivo si sente piano 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.